Buonasera a tutti Siamo in diretta per la nostra catechesi mensile che oggi avrà come tema Credo la risurrezione della carne è il penultimo articolo del credo apostolico poi ce n'è l'ultimo sulla vita eterna che parla dei novissimi ma lo tratteremo nella prossima volta Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Credo la risurrezione della carne e troviamo l'approfondimento di questo articolo del credo nel 202 del compendio che cosa si indica con il termine carne e qual è la sua importanza Ecco, si comincia a chiarire proprio questo Il termine carne designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità Naturalmente questo lo desumiamo dalla Bibbia perché questo termine nella Bibbia si trova abbastanza spesso Quindi La carne, diceva uno degli scrittori cristiani più celebri, Tertuliano è il cardine della salvezza Che cosa vuol dire? Vuol dire che la salvezza nostra passa attraverso la carne Attenti che può un po' scandalizzare questa affermazione Tuttavia è molto importante Innanzitutto è importante perché perché noi stessi siamo fatti di carne a volte diciamo siamo in carne e ossa ma poi Gesù Cristo stesso ha preso la carne si è fatto carne lo dice San Giovanni il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi quindi ha assunto questa condizione che soprattutto nel linguaggio della Bibbia è vero designa l'uomo lo ripeto nella sua condizione di debolezza e di mortalità quindi diciamo più che il termine corpo il termine carne vuole vuole soprattutto descrivere questa condizione di debolezza e di mortalità faccio un esempio Gesù nel Gezemani disse che lo spirito è forte ma la carne è debole ricorderete questa frase tuttavia nonostante la sua debolezza ripeto la carne è il cardine della salvezza cioè sulla carne ruota la nostra salvezza noi non ci salviamo soltanto l'anima ma ci salviamo anche la carne ci giochiamo la salvezza della carne infatti noi crediamo in Dio creatore della carne ripeto crediamo nel verbo fatto carne per riscattare la carne cioè per salvarla crediamo nella risurrezione della carne compimento della creazione e della redenzione della carne quindi la carne non è qualcosa da disprezzare ma è partecipe della salvezza dell'anima posso dire semplicemente una cosa è prima di Gesù l'accento veniva posto per esempio da Platone sull'immortalità dell'anima e basta diciamo che il corpo era considerato poco nulla o veniva visto come una prigione la prigione dell'anima invece con la rivelazione soprattutto la rivelazione di Gesù la carne riceve una nuova luce una nuova comprensione una giusta comprensione perché la prima obiezione che uno potrebbe fare se la carne non giova a nulla se non serve a niente perché noi siamo esseri anche carnali oltre che spirituali oltre che animali con un'anima allora ecco che cosa vuol dire cosa significa risurrezione della carne significa dice al 203 il compendio del catechismo che lo stato definitivo dell'uomo lo stato definitivo noi siamo adesso in una condizione provvisoria per cui la nostra carne è fragile e debole soggetta a fatica a stanchezza a malattia a sofferenza soprattutto alla morte significa che lo stato definitivo dell'uomo non sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo perché quando noi moriamo l'anima si separa dal corpo e quindi uno pensa che il corpo non serve più a nulla sapete che oggi ci sono correnti nichiliste cioè che ritengono che tutto va a finire nel niente nel nulla che dicono il corpo dell'uomo non serve a nulla allora che facciamo lo bruciamo lo distruggiamo perché il corpo non serve a nulla no lo stato definitivo dell'uomo non sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo dice l'articolo 203 ma che anche i nostri corpi mortali un giorno riprenderanno vita quindi immaginate un po' questa affermazione clamorosa del catechismo che però è presa da Gesù perché Gesù ha detto che noi risorgeremo quindi alla risurrezione la parola stessa risurrezione implica un ruolo della nostra carne ecco perché il nostro corpo è considerato lo dice San Paolo un tempio un tempio spirituale quindi dobbiamo tenerci come se fosse il tempio sacro il tempio dove andiamo a compiere il nostro culto divino dobbiamo tenersi al nostro corpo in questo senso allora questo lo dice il numero 203 però qui chiaramente si pone una domanda dice che cosa vuol dire a questo punto risuscitare beh avendo noi da poco celebrato la Pasqua sappiamo che la domenica di Pasqua viene chiamata domenica di risurrezione quindi la domenica che celebra la risurrezione cioè la riassunzione da parte di Cristo del corpo della carne quella carne stessa martoriata tuttavia trasfigurata trasformata quindi è sempre la sua carne il suo vero corpo dice anche il canone romano nel suo vero corpo lo dice il canone romano nella parte del comunio specifico che si recita a Pasqua allora è il vero corpo di Cristo è stato riassunto da lui con la risurrezione in che maniera la sua anima che prima si era separata dal suo corpo al momento della morte è andata agli inferi cioè l'anima del Signore di Gesù è andata nell'inferi cioè cosa sono gli inferi attenzione gli inferi non sono l'inferno gli inferi sono il luogo nel quale dopo la caduta dell'uomo del primo uomo di Adamo di Eva e tutti i giusti cioè coloro che non avevano commesso malvagità mali peccati erano andati a finire a motivo del fatto che il paradiso era chiuso allora andavano agli inferi che gli ebrei si immaginavano nella loro diciamo raffigurazione dell'aldilà come un luogo tenebroso lo chiamavano lo Sheol il luogo dei morti diciamo anche se poi ci sono da fare delle distinzioni ma non mi soffermo molto su questo per non disorientarci diciamo la cosa importante però è che Gesù con la sua anima va ora risponderò poi perché la chiesa mette la cremazione vedo che c'è uno che domanda lo dirò tra poco un po' di pazienza allora dicevo che Gesù con la sua anima quindi senza il corpo dopo la morte va nell'inferi e che cosa va a fare questo lo dice il credo discese all'inferi cioè andò a liberare tutti coloro che prima di lui pur essendo giusti non erano andati in paradiso perché il paradiso era chiuso li andrò a liberare a renderli partecipi della sua risurrezione infatti gli orientali in una bellissima icona che loro espongono il giorno di Pasqua rappresentano Gesù che ha sotto i piedi i battenti degli inferi scardinati quindi con tutti i chiavi stelli le cerniere di velte e prende lui per mano Adamo ed Eva come simbolo dell'umanità poi dietro Adamo ed Eva ci sta il re Davide Salomone tutti giusti fino a Giovanni Battista probabilmente anche San Giuseppe perché San Giuseppe è morto prima della redenzione di Cristo allora questo è il mistero di Cristo all'inferi ma questo ne avevo già parlato quando ho trattato di questo articolo quindi tornando a noi l'anima di Gesù dopo la discesa all'inferi si riunisce alla sua carne che però viene trasfigurata questo avvenimento della trasformazione della carne di Gesù Cristo per opera sempre dello Spirito Santo e oltre che per virtù propria di Gesù Cristo perché lo Spirito non agisce separatamente da Cristo c'è una sorta di sinergia tra i due perché entrambi appartengono alla Trinità e quindi la volontà del Padre si esprime attraverso questa diversità di operazioni ma in unità di intenti e allora dicevo riunendosi a questa carne trasformata Cristo risuscita allora l'articolo 204 pone questa questione qual è il rapporto tra la risurrezione di Cristo e la nostra risposta come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre così è lì stesso risusciterà tutti nell'ultimo giorno con un corpo incorruttibile e quindi non più un corpo corruttibile come quello che abbiamo adesso ma un corpo incorruttibile cioè trasformato dalla potenza dello spirito per intenderci il corpo che passa attraverso le porte chiuse il corpo che si presenta in luoghi differenti senza impiegare tempo quindi un corpo che supera lo spazio e il tempo che sono le categorie fondamentali nelle quali noi viviamo oggi quindi come ha fatto Gesù che entrava a porte chiuse e si presentava quasi contemporaneamente in Galilea e in Giudea agli apostoli quelli che stavano in Galilea quelli che erano rimasti in Giudea gli altri discepoli quindi le caratteristiche del corpo risuscitato di Gesù Cristo saranno le nostre caratteristiche dice il Catechismo aggiunge prendendo la frase dal Vangelo di Giovanni 5.29 che la risurrezione con questo corpo incorruttibile sarà di tutti gli esseri umani tutti sia i cattivi che i buoni allora quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna questo lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 5 versetto 29 riportato nell'articolo 204 del Catechismo quindi la risurrezione sarà una condizione che riguarderà tutta l'umanità non soltanto diciamo alcuni eletti però il fine della risurrezione è differente per i buoni la risurrezione di vita e per i cattivi la risurrezione di condanna perché in quanto noi come spiegheremo nella prossima Catechesi avremo la ricompensa del Paradiso o dell'Inferno a seconda delle opere che abbiamo compiuto se abbiamo fatto opere malvagie prevalentemente andremo a finire l'Inferno se avremo fatto opere buone meritorie andremo nel Paradiso qualcuno potrebbe adesso chiedermi il Purgatorio attenzione il Purgatorio riguarda soltanto il tempo intermedio tra la morte e la risurrezione quindi riguarda il Purgatorio solamente l'anima non il corpo mentre il corpo trasfigurato parteciperà alla pena o al premio solo l'ultimo giorno quando la risurrezione avverrà l'ultimo giorno lo conosce solo il Signore profitto per dire che Gesù ha avvertito non date retta a quelli che dicono domani sarà la fine il giudizio universale a nessuno è dato sapere questo anzi Gesù per togliersi dai piedi diciamo così i discepoli che dicevano e quando sarà e quando sarà disse guardate che questo non lo sa nessuno nemmeno il figlio cioè lui ma solo il padre in verità il figlio lo sa lo sapeva bene però lo fece quasi a dire per favore fermatevi qui direbbe Dante state contente umane gente alquia cioè basta non fatevi troppe domande parole povere andiamo avanti perché abbiamo ancora altri due articoli allora che cosa succede con la morte che cosa succede al nostro corpo e alla nostra anima questo è l'articolo 205 che cosa succede con la morte separazione dell'anima e del corpo il corpo cade nella corruzione questo lo vediamo che è una constatazione ahimè piuttosto anche brutta che possiamo fare anzi potremmo dire che già col passare degli anni ci accorgiamo che il nostro corpo decade cioè diventa sempre come dire più soggetto alla debolezza alla fragilità fino a che non arriverà la morte e allora con la morte il corpo cade nella corruzione mentre l'anima che è immortale va incontro al giudizio di Dio quindi attenzione il giudizio di Dio avviene appena siamo morti immediatamente l'anima va davanti e si dice dice San Paolo al tribunale di nostro Signore e viene giudicata va incontro al giudizio questo si chiama il giudizio particolare cioè il giudizio personale potremmo dire quindi non è il giudizio universale il giudizio universale sarà alla fine cioè dopo quando ci sarà la risurrezione ci sarà anche il giudizio quindi noi risusciteremo per essere giudicati davanti a tutti pensate un po' ma di questo parleremo nella ultima catechesi sul credo e allora attende dunque l'anima che è immortale va incontro al giudizio quindi a differenza del corpo l'anima è immortale invece il corpo è mortale attende di ricongiungersi al corpo quando al ritorno del Signore risorgerà trasformato quindi il Signore risorgerà dice l'Apostolo al suono delle trombe tutta l'umanità di tutti i tempi sarà convocata ed ecco che noi risuscitati come già prevede per esempio il profeta Ezechiele le ossa che risorgono si rivestono di nervi di carne di pelle eccetera c'è questa visione nel capitolo trentasesimo del profeta Ezechiele però risorgerà trasformato cioè non è come la risurrezione per esempio di Lazzaro nei Vangeli sono documentate tre risurrezioni la risurrezione del figlio del figlio del centurione la risurrezione della bambina pardon la risurrezione del figlio della vedova di Naim la risurrezione della bambina di Gairo e infine la risurrezione di Lazzaro ma quelle risurrezioni erano un ritorno alla vita di prima quindi riprendevano lo stesso corpo mortale Gesù lo fece per far capire che lui è il padrone della vita quindi può dare la vita a chi vuole in qualsiasi momento nonostante il corpo di Lazzaro da quattro giorni era nel sepolcro e ormai già mandava cattivo odore dice San Giovanni Gesù lo risuscita naturalmente poi Lazzaro morì ovviamente come tutti gli esseri umani in maniera come dire definitiva e allora il corpo risorgerà trasformato comprendere come avverrà la risurrezione come attenti a questo avverbio comprendere come avverrà la risurrezione dice il compendio supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto cioè è un po' difficile capire come mentre è certo che noi risurre come avverrà la risurrezione è un po' difficile tuttavia io ritengo che San Paolo in verità ma anche Gesù lo ha fatto ancora prima di San Paolo ci hanno detto come in qualche maniera avviene la risurrezione e cioè prima di tutto bisogna spiegare che cosa vuol dire risuscitare e questo l'abbiamo spiegato chi risusciterà abbiamo detto tutti gli esseri umani come si risusciterà ecco come quindi abbiamo detto che vuol dire risuscitare abbiamo detto che vuol dire risurrezione della carne abbiamo detto che vuol dire risuscitare abbiamo detto chi risusciterà ora dobbiamo spiegare come come si risusciterà ecco io mi permetto di farvi di richiamare l'esempio fatto da Gesù e da San Paolo come avviene in natura per il seme che si corrompe nella terra il seme quando viene seminato si corrompe ma da origine ad una nuova pianta lo sappiamo il seme tu lo vedi piccolo piccolo lo metti lo metti nella terra poi viene fuori una pianta è una cosa quasi incredibile noi magari come dire non ci facciamo più caso perché però sapete che a volte lo diciamo nella natura ci sono dei veri e propri miracoli vedere un seme piccolo che si trasforma in un'altra cosa è come dire è un po' incredibile e allora da origine una nuova pianta così il nostro corpo che si corrompe con la morte verrà trasformato in corpo spirituale riunendosi all'anima quindi ho portato questo esempio che fa Gesù stesso Gesù dice se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore porta molto frutto San Paolo nella lettera ai Corinzi dice si semina corruttibile e si raccoglie incorruttibile quindi diciamo che loro stessi hanno portato questo esempio e quindi noi possiamo analogamente ritenere che la risurrezione avvenga in questa maniera noi seminiamo il corpo mortale però poi il Signore rinascere risorgere spirituale incorruttibile come esattamente come fa nella natura perché è il creatore a maggior ragione è il ricreatore colui che fa rinascere e a lui non a lui tutto è possibile a lui nulla è impossibile quindi quindi noi dobbiamo avere questa certezza attenzione questo è un articolo del credo che già gli apostoli professavano credo la risurrezione della carne un cristiano che non crede alla risurrezione della carne non è un vero cristiano vuol dire cioè che crede a metà per esempio un cristiano che credesse che è solo l'anima che sopravvive al corpo mentre il corpo lo puoi anche buttare non è un vero cristiano perché non ha preso la risurrezione di Gesù non solo ma le parole che lui ha detto sulla risurrezione perché lui ha detto che chi mangia la mia carne e beve il mio sangue io lo risusciterò nell'ultimo giorno quindi addirittura ha legato la verità della risurrezione finale all'eucaristia cioè al cimarsi di lui e questa è la ragione per cui il sacramento santissimo della comunione dell'eucaristia è il più importante di tutti perché è Cristo stesso che ci nutre di sé e quindi noi con questo che è stato chiamato e lo ripeto sempre dell'immortalità l'eucaristia noi noi vinciamo la morte in tutti i sensi in tutti gli aspetti e ultimamente la morte eterna la risurrezione riceviamo per la vita e quindi pensate come è importante l'eucaristia non è solo legata alla risurrezione di Cristo ma collegata alla nostra risurrezione oh a questo punto c'è un ultimo articolo poi risponderò un po' alle domande vediamo che ore sono eh già mezz'ora ci siamo che cosa significa morire in Cristo Gesù questa è una frase che noi spesso sentiamo nelle nelle omelie nelle catechesi no perché perché oppure il battesimo si dice con il battesimo noi moriamo con il Signore che vuol dire allora dice l'articolo 206 che cosa significa morire in Cristo Gesù significa morire in grazia di Dio senza peccato mortale ecco allora morire in Cristo Gesù morire nel Signore significa morire in grazia di Dio non in disgrazia senza peccato mortale quindi questo vuol dire che dobbiamo seguire l'esempio di Cristo affinché noi trasformiamo la nostra morte come credenti in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre dice San Paolo nella seconda lettera a Timoteo capitolo secondo versetto undici certa è questa parola se moriamo con lui vivremo anche con lui quindi pensate un po' San Paolo è certo di questo se moriamo con lui vivremo anche con lui allora ecco il battesimo perché Gesù ha detto che chi non sarà battezzato non si salva sarà condannato perché il battesimo posto all'inizio della nostra nuova vita in Cristo ci fa morire con lui in senso mistico perché noi scendiamo in una specie di sepolcro liquido l'acqua l'acqua è una specie di sepolcro liquido quindi noi siamo sepolti nell'acqua con Cristo sommersi tant'è vero che gli antichi battesimi si facevano in modo tale che il battezzando proprio andasse sotto sommerso fino alla cima dei capelli dalla punta dei piedi alla cima dei capelli e la parola battesimo è una parola che viene dal greco e vuol dire profondità sapete donde viene anche il termine battisimo no battesimo è la stessa radice battus quindi battis quindi vuol dire andare sommersi andare sotto no noi siamo sepolti con Cristo e poi ne usciamo risorgiamo ecco perché il battesimo è il primo sacramento che simboleggia la nostra partecipazione al mistero di Cristo perciò il battesimo è legato al mistero il battesimo in antico si celebrava la notte di Pasqua non in altri giorni dell'anno poi via via è chiaro diventando sempre più numerosa la cristianità il sacramento è stato anche amministrato negli altri tempi nelle altre domeniche e negli altri giorni però diciamo che il giorno anzi la notte per eccellenza del battesimo e di tutti i sacramenti è la notte pasquale adesso io mi fermo nel 206 mi raccomando se potete andate a riprendervi il compendio del catechismo il compendio del catechismo io lo ripeto sempre è fatto molto bene non è lungo e riprende in sintesi tutti i catechismi precedenti quello di Trento quello di San Pio X eccetera eccetera non c'è bisogno di fare altri catechismi se no alla fine uno impazzisce però vabbè se uno deve fare una ricerca un approfondimento al tempo può benissimo usare anche gli altri catechismi però il compendio è stato preparato proprio da Papa Benedetto perché pur avendo il catechismo plenario il catechismo della Chiesa Cattolica che è una cosa ponderosa e che serve ovviamente per conoscere tutta la dottrina tutto l'insegnamento della Chiesa quindi io raccomando soprattutto a quelli che vogliono essere cristiani maturi profondi di avere il catechismo non è che lo dovete leggere dall'A alla Z però lo andate a consultare soprattutto qua basta prendere le parole chiave per esempio risurrezione uno va all'indice analitico e trova tutti i numeri corrispondenti e si fa come si dice una cultura cristiana vabbè venendo adesso a noi qualche ulteriore approfondimento anche perché vorrei rispondere anche alle domande cioè la risurrezione ho detto che avviene alla fine del mondo non dopo la morte dopo la morte avviene solo il distacco dell'anima dal corpo che va a finire sottoterra a questo punto qualcuno dice mamma mia e tutti diventiamo cenere anzi di molti non esiste manco più la cenere per non parlare dei corpi smembrati cioè quelli che sono morti per esempio durante certe catastrofi quelli che sono stati sbranati quelli che sono dati a figli nel mare come si fa come si fa cari miei non dovete mettere limiti all'azione dello spirito santo che già il profeta Ezechiele vissuto alcuni secoli prima di Cristo intravede e quale è l'azione dello spirito santo quello di radunare tutte le membra sparse e di ricongiungere di ricomporre ossa ceneri pelle nervi tutto e farci risuscitare quindi immaginate un po' noi queste cose malco le pensiamo perché crediamo che il Signore è vero è condizionato dalle cause umane il Signore è il Signore egli fa tutto quello che vuole egli è onnipotente noi nella liturgia diciamo spesso cominciamo con questo attributo Dio onnipotente cosa vuol dire onnipotente che può tutto cosa disse l'angelo Gabriele alla Madonna al momento dell'annunziazione quando la Madonna disse ma io non conosco uomo come è possibile io sono vergine come devo diventare madre cosa rispose nulla è impossibile a Dio scolpiamo nella nostra mente nel nostro cuore questa frase nulla è impossibile a Dio figuratevi se Dio che crea dal nulla crea dal nulla Dio non può far risorgere non dal nulla ma da qualcosa che già sta è proprio potremmo dire un giochetto no veniamo a un'altra questione e quando facciamo la cremazione cioè quando si bruciano i corpi noi noi condizioneremo impediremo la risurrezione assolutamente no no perché perché ho già spiegato che lo Spirito Santo raccoglie tutto da tutte le parti dai 4 venti potrei dire da tutti i mari da tutto l'universo e farà risorgere tuttavia attenzione attenzione qualcuno dice giustamente ma questa cremazione è una cosa giusta è una cosa sbagliata la Chiesa la permette allora dico in breve se andrete a visitare la necropoli vaticana cioè il cimitero che sta sotto la basilica di San Pietro è una visita che io raccomando io stesso l'ho guidata e l'ho fatta vedere a tanti e noterete che c'è la parte pagana e la parte cristiana la parola necropoli significa città dei morti necron perché noi non abbiamo usato il termine necropoli noi cristiani ma abbiamo usato il termine cimitero anche questo termine viene dal greco come necropoli sono tutte e due parole greche abbiamo usato il termine cimitero perché la parola cimitero significa chimestirion luogo del riposo perché noi crediamo che l'uomo dopo la morte entra come il seme nel terreno in una fase di riposo si interpone come dire un intervallo come dice San Paolo prima di riprendere la corsa la vita ecco perché noi diciamo l'eterno riposo dona loro Signore ma anche il Signore nel Salmo 94 dice coloro che sono stati a me disobbedienti non entreranno nel luogo del mio riposo quindi il paradiso viene assimilato a un luogo come dire dove ci riposiamo dove dove finalmente staremo tranquilli senza più problemi allora la cremazione la chiesa all'inizio quando diciamo si confrontò col mondo pagano vietò la cremazione disse no i cristiani non devono bruciare i corpi devono inumarli cioè metterli sotto terra oppure in un loculo cioè come per esempio nelle catacombe come si può vedere nelle catacombe quindi la pratica vera cristiana è l'inumazione perché allora la chiesa nel secolo scorso ha consentito la cremazione pur non essendo una pratica cristiana ma pagana perché i pagani bruciavano i corpi perché dicevano che il corpo non serve a nulla ho già spiegato che Platone diceva che il corpo è la prigione dell'anima lo ha fatto la chiesa per motivi diciamo pratici talvolta ci sono problemi come le epidemie per cui non c'è posto dove inumare tal'altra succede che ci siano delle necessità allora ecco ha stabilito con un decreto della congregazione della fede che se si deve cremare il corpo chi lo vuole cremare non lo deve fare in spregio alla fede nella risurrezione quindi se un cristiano crema il corpo per motivi puramente come dire contingenti pratici non fa un atto grave se invece lo fa perché crede che con la morte finisce tutto anzi addirittura qualcuno prende le ceneri le va a spargere in mare oppure dall'aereo sapete ci sono questi usi taluni lo fanno compie un grave reato è un grave peccato perché vuol dire che non crede nell'articolo che abbiamo appena spiegato vorrei aggiungere un'altra cosa perché spesso le persone mi domandano dice ma ma lei che dice ma è giusto cremare io non sono convinto dice una persona è brutto allora io faccio questa osservazione naturalmente il mio è un consiglio non è l'opinione generale della chiesa io dico ma come siamo nel tempo ecologista dove ci teniamo al rispetto della natura di tutto dell'acqua dell'aria degli animali di qualsiasi cosa beh allora ditemi un po' se io assistessi a un a un essere umano che non so muore bruciato in una macchina come rimango io rimango inorridito perché perché dico non è normale questo in quanto il corpo dell'uomo deve consumarsi secondo natura quindi lasciamo il tempo perché aggredire con il fuoco quindi in maniera violenta il corpo dell'uomo perché immediatamente si riduca in genere ecco questa è l'obiezione che faccio e in genere le persone dicono è vero non ci avevo pensato meglio 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 che il corpo si corrompa naturalmente sapete che il nostro corpo in gran parte è composto di acqua così si dice no si sa quindi è bene che tutti i minerali tutte le componenti del corpo ritornino ciascuno da dove sono venute perché fare violenza con il fuoco ecco vi lascio quindi finisco qui la catechesi e rispondo a qualche domanda prima di di concludere mi auguro di aver risposto almeno ad alcune domande che che già erano apparse vediamo un po' allora questa sulla cremazione l'ho già detto giustamente il corpo viene onorato persino incensato il funerale si fa l'incensazione perché il corpo ho già spiegato è Tempio dello Spirito Santo ho spiegato perché la chiesa ammette la cremazione poi cosa vuol dire il coronavirus non è più attivo sui cadaveri allora ma questo non mi pare ma il problema è questo bisognerebbe porlo perché pare che questo virus non sia molto conosciuto ma di sicuro però se le cellule dell'uomo muoiono certamente il coronavirus non ha molta speranza di continuare a vivere perché lui si ciba delle cellule dell'uomo quindi posso rispondere solo così la morte è un passaggio giustamente un periodo di sospensione in attesa della risurrezione certamente Gesù ha reso la morte un passaggio e l'anima va subito al primo giudizio ma il corpo sarà polvere per risorgere incorrotto giustamente perché il primo giudizio è quello particolare perciò noi diciamo giudizio universale o finale per indicare che non è il giudizio particolare quello a cui siamo sottoposti dopo la morte Adamo e Eva sono dannati o no? No non più perché perché essi poi si sono pentiti hanno espiato naturalmente loro non erano non erano erano nati prima nella vecchia economia quando Cristo non c'era ancora quindi non avevano fruito della redenzione quando il Signore è andato agli inferi ad inferi li ha richiamati alla vita li ha portati con sé perciò ho fatto l'esempio dell'icona dei nostri fratelli cristiani d'Oriente perché si sono pentiti si sono pentiti perché chiaramente si sono accorti di averli sobbidito sono stati mandati via e il Signore disse ai progenitori che avrebbero sudato e avrebbero patito tutte le conseguenze della loro ribellione vediamo un po' se c'è ancora qualche altra domanda ringrazio dei saluti tutti coloro che mi salutano ad uno ad uno saremo giudicati due volte esattamente il primo giudizio è particolare il secondo è universale manifesterà diciamo sarà un giudizio della storia quindi ne vedremo di belle ne vedremo di belle vediamo se c'è qualche altra domanda perché nonostante la confessione con pentimento si può sentire ancora dolore e tristezza del peccato anche con crisi di pianto beh questo può dipendere dalla sensibilità della persona però potrebbe anche dipendere da un eccesso di scrupolo stiamo attenti agli eccessi di scrupolo per favore e a non voler essere più buoni di nostro signore e fidiamoci di nostro signore mi pare se un nostro parente ha espresso il desiderio di essere cremato potremmo rifiutarci alla sua morte oppure siamo in dovere di rispettare la sua volontà allora cerchiamo di conoscere la ragione innanzitutto se è possibile prima che muoia e cerchiamo di convincerlo a me è capitato di convincere delle persone dicendo ma guardate lasciate perdere e si sono convinte e naturalmente dopo la morte dipende se non ci sono altri familiari con cui concorrere per per accordarsi può essere più problematico però ecco anche in questo caso come ho già spiegato e se la persona l'ha fatta perché non aveva una fede certa nella risurrezione dobbiamo pregare molto per quell'anima dobbiamo pregare molto dobbiamo far celebrare molte messe per quell'anima perché non ha avuto fede nelle parole di Cristo io lo risusciterò nell'ultimo giorno questo di sicuro se poi abbiamo la possibilità di di un'alternativa benissimo si può fare diversamente come si dice come dice il proverbio chi muore tace chi vive si dà pace allora poi ripeto la prossima volta la prossima volta eh approfondiremo i i destini il destino di premio o il destino di condanna cioè quelli che vengono chiamati i nuovissimi le ultimissime cose cioè la morte il giudizio l'inferno e il paradiso e la morte il giudizio più o meno l'abbiamo già detto oggi se un uomo muore in un'esplosione quindi quindi di morte violenta come avviene il distacco dell'anima ah va l'anima si distacca non appena non appena il corpo come dire viene meno il distacco dell'anima dal corpo coincide proprio con la fine con la morte l'inferno e il paradiso esistono da dopo la redenzione di Cristo allora la l'esistenza ne parleremo la prossima volta ma l'esistenza del bene della distinzione tra i buoni e i cattivi diciamo così e si è prodotta soprattutto come giudizio dinanzi a Cristo chi accetta Cristo è giudicato nel bene chi lo rifiuta nel male la prossima volta parleremo anche di questo prima la credenza degli ebrei e non solo anche di altre religioni è l'esistenza di un luogo diciamo indistinto un luogo veniva chiamato lo Sheol l'ho già detto cioè il luogo dove stanno i morti in attesa di partecipare alla vita ma questa fede si è chiarita soprattutto negli ultimi secoli prima di Cristo nel periodo dei Maccabei si cominciò a fermare la fede nella risurrezione poi Gesù Cristo l'ha come dire definita e parleremo anche di questo Santa Bernadette ci insegna che il corpo riposa in attesa della risurrezione curioso che con lei che ha visto la senza peccato non ha sperimentato la corruzione del corpo e questo è un privilegio soltanto della Vergine Maria perché era senza peccato anche Bernadette aveva il peccato originale come ha detto Gesù chi è senza peccato scali per primo la pietra contro di lei contro l'adultera ribadisco che se uno si fa cremare in odio o in dispregio della fede nella risurrezione della carne vuol dire che non ha fede nel Signore che può risuscitare crede che la risurrezione non esista e quindi se uno facesse quell'atto con questa direi con questo sottinteso certamente non compie un atto giusto e quindi diventa peccaminoso perché è un atto di non fede di dispregio della fede cosa significa ne vedremo delle belle ah l'ho detto a proposito del giudizio universale ne vedremo delle belle nel senso che probabilmente le persone che credevamo dannate le vedremo salvate le persone che credevamo salvate le vedremo dannate in questo senso ci saranno delle sorprese perciò bisogna essere cauti nel dare giudizi come a volte sento dire nei funerali lui è sicuramente in cielo egli è arrivato in paradiso come si fa a fare queste affermazioni bisogna essere come dire molto molto cauti nessuno di noi ha questa certezza tant'è vero che la chiesa dice di pregare per tutti i defunti persino per quelli che noi riterremmo riterremmo come dire dannati mi ricordo che mi raccontarono tempo fa una barzelletta di un prete che faceva dire la messa per Hitler e fu rimproverato dal vescovo ah tu non devi eccetera e lui obiettò disse ma perché lei è così sicuro che gli sia dannato guardi che l'apparenza inganna e poi io celebro la messa di suffragio perché metta che lui nell'ultimo istante dico Hitler per dire diciamo uno degli emblemi della malvagità diciamo della cattiveria ponga che all'ultimo istante abbia avuto un ripensamento per detto mio Dio abbi misericordia di me aiutami beh in quel momento il Signore lo ha ciuffato magari starà facendo fare non so quanto in purgatorio però ecco dobbiamo avere non dobbiamo avere questa presunzione la Chiesa prega per i defunti innanzitutto per i fedeli defunti però può pregare per tutti i defunti perché noi non sappiamo fino all'ultimo che cosa è accaduto nell'animo di una persona in rapporto a Dio e questa è una bella domanda se uno si salva e va in paradiso ma un mio amico o parente si danna come potrà coesistere questo dolore con la beatitudine del paradiso ma perché capiremo la giustizia di Dio il dolore è qualcosa che riguarda questa terra questo mondo nel paradiso non esiste dolore né pianto né lamento come dice l'Apocalisse quindi noi qua giù ci dispiaciamo ci rallegriamo eccetera secondo come dire sentimenti umani ma una volta che saremo dinanzi a Dio e vedremo Dio come Egli è finiscono tutte le passioni tutte caro Dario tutte le passioni allora questo già spiegato i trapianti e un'altra domanda cosa ne penso dei trapianti ma voglio dire il trapianto può essere una maniera dato che questi organi andranno come dire in corruzione una maniera per far vivere ancora qualcuno una sorta di gesto di solidarietà siamo sempre lì se lo si fa per la carità ha un senso se lo si fa perché si crede che tanto con la morte il nostro corpo non serve a nulla allora no questo è molto importante e non dimentichiamo che Gesù stesso ha detto che è meglio entrare nell'aldilà monco piuttosto che con due mani va bene andarsene direttamente all'inferno quindi è un esempio naturalmente un po' un po' eccessivo per farci comprendere l'attesa e il tempo della risurrezione noi la viviamo finché non arriverà la risurrezione quando comincerà finisce il tempo finirà il tempo e comincerà l'eternità quindi ecco perché il purgatorio è temporale è una pena diciamo temporale invece l'inferno è una pena eterna ecco la differenza comunque avremo la prossima volta la opportunità di parlare di tutto questo anche trattando dei nuovissimi che il signore si presenti sempre all'uomo in punto di morte quale suo ultimo atto di misericordia è una credenza che molti hanno avuto non solo i santi anche persone che si sono convertite hanno visto venire presso il letto di morte Gesù e Maria a prenderle quindi tutto dipende dal grado di grazia in cui ci troveremo al momento della morte sulla morte improvvisa per incidente di un ragazzo non praticante e io ricordo che una volta quella famosa mistica calabrese che è morta una decina di anni fa mi pare si chiamava Natuzza Evolo che aveva che colloquiava con le anime del purgatorio ricevette una una richiesta del genere circa un ragazzo che era morto in un incidente e lei disse ha bisogno di molte messe quel ragazzo si è salvato dall'inferno perché probabilmente avrà invocato il Signore nell'ultimo istante ma ha bisogno di molte messe per uscire dal purgatorio però dico a tutti coloro che domandano che se si studia il catechismo si trovano tantissime risposte alle nostre domande invece purtroppo il catechismo non viene studiato e allora ecco il problema bene io vi ringrazio della della vostra pazienza e siamo nel tempo pasquale quindi un augurio a tutti affinché la grazia del Signore ci avvolga ci preservi da ogni contagio di ogni genere sia quello del virus che quello del peccato soprattutto e in modo da da poter da poter essere è vero partecipi sempre dell'azione dello spirito che è un'azione trasfigurante trasformante già qui in questo mondo delle nostre anime sia lodato Gesù Cristo arrivederci al prossimo mese buona domenica